se c'è la linea posso collegare se non c'è io mi ho tolto internet c'è solo la linea telefonica se attivo hotspot tu lo puoi usare qua dove si ferma? l'albero l'albero è proprio l'albero si è venuto l'albero si è venuto la sabbia vando vando forte la sabbia vando vando forte vando forte vando forte vando forte vando forte passare la velocità quasi la 60 eh sì sì c'è il radar L'odore di l'alio dentro la macchina Wow! Guardate la macchina 200 Si, si Stanno secando Albero bello albero bello e no perchè vendono la città deve essere un parcheggio pagamento un altro non è pagamento la foresta di arar si chiama è vero questo qua sono geni alberi però sta per seccare qualcuno che dovrebbe fare ma questo come per me mi piace o no eh sì i i i i i i i i Agadir Agadir Qua Esfi Casablanca Savera Si Si Se non è difficile Poi giocare No Si 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 Questa è Onara Questo paese si chiama Onara La ragazza è sempre dritta Si Markaz Jamaj Onara Questi sono paesetti piccolini vicino alla città Questa fa parte di città Si Si Hai visto com'è? No Sì Sì Però è sfizioso Qua fanno mercato Si 420 Alla rotonda brandy la prima uscita è brandy Bomba di benzina Sì 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 Qui sta con giù Qui sta con giù Sì Che persone qua? Semplici Si Si Sì 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 Per andare Casablanca quella l'altra via Sì 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 La nostra campagna questa ancora sta ancora qua Sì 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 Noi E' la nostra campagna di qua, dentro. Questa è la strada che va. Tutti Argen, mi dico. E' pure Alibis in Stambola. E' strana buona, non ce n'è proprio buona, esiste. Questa è la strada, secondo me. In Europa non esiste proprio l'Argen. No, no, no. L'unico posto è qua. Eh, in Europa non ci sta. C'è negativo l'unico posto. Eh, da sapere che dire Marrakesh. Argen, l'unico posto nasce qua. Tutti Argen, questi. Questi qua, tutte le piante, oliva, Argen. Sì, qua non buttano l'oliva. Non ne buttano l'oliva. Vedi, nessuno ha buttato. Non buttano l'oliva, non ne buttano l'oliva. Non buttano l'oliva. Vedi come sono tagliate sopra che esce come un'ombrella. Neloriva l'oliva. Tammoso dobbiamo fare un attimo. Ehm. tutti i pianti vedi? bello qua, vieni a fare il piquenic un litro 60 euro costa un litro 60 euro, ma che cazzo euro è? mamma mia, costa assai di oliva oliva sta in tutto il mondo, oliva sta solo in questa parte qua capito? si, mamma che fai con oliva? si può fare massaggi, si può mangiare, si può mettere dentro l'insalata si usa anche nella sostanza di crema, shampoo per i capelli, per tante sostanze tra 620 euro, palla conta, prosegue dritto per rimanere su N206 euro 40 euro qua, 60 euro 40 euro molto, molto molto l'intervista si può fare visto che se non ci manca riempita di paisa di santa cosa Sì Così, tipo così Grazie Una un po' rinchi È un po' di più C'è un po' Non può riuscliere Non è più È un po' di più Non esistono le malattie Le malattie non esistono quando uno malato sta a casa quando muore finita così come così il nostro terreno questo vuole passaggi ora mi 50 diranno va bene In questo paese stanno qui a truco l'Uber, i capelli sono 50. Eh sì, 20 dirammi. 20 dirammi è buono. Va bene, pure 20 dirammi è buono. Pannelli solari. Eh sì. Sì, Bacchè, Genova. Tutti arghen, tutti arghen. Oliva, poco, arghen. E qua c'è un po' di arghen. Non sono uno vicino all'altro come là. Stanno ogni tante. Eh sì, ogni tante. Vedi, bella questa carica. Quando maturano? Fa questo periodo allora. E matura il mese di agosto? Eh, ma oggi è così grossi. Eh, devono maturare ancora. Aspetta, usi. Alcuno fa grande così. Eh, devono più grandi. Questi sono piccolini. Vedi come una mandarina. No, no, di meno. Di meno. Quando sono matura se ne cadono soli, eh, Vito? So, piccoli. Mmmh. Ma sono le candele. Né guaggione con po' pianti. Eh no, ha secato. I miei ci sono tanti. L'apparante Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.